Buongiorno a tutti, stiamo per dare inizio a questo derby 2018, la prima giornata, ci verranno presentati circa 34 cani, con me a valutare le prestazioni di questi soggetti i colleghi Pola e Cataldi, a discapito, a dispetto, scusate, di quelle che erano le più pessimistiche previsioni, non piove, tende un pallido sole a uscire, questa è la forza della cenofilia. A dopo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.